Fortezza dei martiri, salvaci. Sangue di Cristo, vigore dei confessori, salvaci. Sangue di Cristo, che fai germogliare i vergini, salvaci. Sangue di Cristo, sostegno dei vacillanti, salvaci. Sangue di Cristo, sollievo dei sofferenti, salvaci. Sangue di Cristo, consolazione del pianto, salvaci. Sangue di Cristo, speranza dei morenti, salvaci. Sangue di Cristo, conforto dei penitenti, salvaci. Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori, salvaci. Sangue di Cristo, pegno di vita eterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. C'è redenti, Signore, con il tuo sangue. Hai fatto di noi un regno per il nostro Dio. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai costituito il tuo figlio unigenito, redentore del mondo. Hai voluto essere placato dal suo sangue. Concediti, preghiamo, che noi così veneriamo il prezzo della nostra salvezza. Per la sua potenza siamo difesi sulla terra dai mali della vita presente, da poter godere eternamente il frutto del cielo. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Voglio ricordare a tutti che alle 15.30 in matrice avremo la liturgia, con l'adorazione della croce, la preghiera universale e la santa comunione.